Sbalzi di temperatura, colpi d'aria e batteri possono causare il mal di gola. Un tifoso della curva A mette in campo l'azione disinfettante di Yodosan Gola che dà prolungato per essere... Gol! Un tifoso della curva B invece spruzza Yodosan oral spray predosato direttamente sulla parte infiammata e combatte il mal di gola con i suoi principi attivi. Gol! Yodosan Zambeletti sono presidi medico-chirurgici ad azione disinfettante della gola. Contro il mal di gola, vittoria sicura!